L'ambulatorio special needs dell'ospedale San Donato di Arezzo dedicato ai soggetti fragili diventa sempre più all'avanguardia grazie ad un'importante donazione per la cura odontoiatrica dell'associazione Autisma Arezzo. A tutt'oggi le persone almeno nel nostro mondo quindi con disabilità intellettiva specialmente autistici più che altro piccoli ma anche adulti compiono questi grandi viaggi cioè quindi come minimo vai a Firenze se non più lontano con grande disagio per le famiglie e alle volte anche sofferenza per gli stessi bambini o le stesse persone. Quindi il nostro obiettivo era duplice rilanciare questo e sostenere praticamente con delle attrezzature all'avanguardia. Questo è proprio quello che volevamo fare fin dall'inizio cioè essere una parte attiva della società non gestire servizi ma bensì sostenere le eccellenze e i servizi di qualità per cui alleviare quello che è già la vita difficile la sofferenza di tante famiglie. La strumentazione donata dal valore di oltre 7 mila euro è composta da un radiologico digitale portatile che permette in meno di un secondo di effettuare una diagnostica del cavo orale, un manipolo che prepara il canale per le devitalizzazioni, misura la lunghezza diminuendo così tempi di azione ed infine una lampada che permetta alle resine plastiche per le otturazioni di aderire al dente e indurire così in tempi brevissimi. Con questa apparecchiatura che fra l'altro somministra una quantità molto ridotta di raggi è possibile effettuare esami radiografici in pazienti allettati, in pazienti con Alzheimer che non possono stare in posizione retta, in pazienti disabili non collaboranti. Quindi da un punto di vista della diagnostica abbiamo fatto un balzo direi da leone. L'idea della donazione è nata a seguito del convegno internazionale di odontoiatria che si è svolto a Cortona organizzato da uno dei soci dell'associazione Autismarezzo. Uno pensa cosa posso fare con la nostra professione appunto di odontoiati, io me la gioco bene come odontoiata, come altre cose non è che sia un granché. E l'idea quindi è stata ok io organizzo un congresso, raccolgo fondi e con questi fondi che fanno sempre comodo riusciremo a migliorare la qualità di vita e la qualità delle cure di questi bambini che effettivamente hanno dei grossi problemi perché non collaboranti non possono essere affidati a strutture private se non altamente specializzate. Quindi la sede naturale è proprio una struttura pubblica dove c'è un anestesista, dove c'è un reanimatore, dove c'è le possibilità di poter intervenire in maniera completa e adeguata perché sono bambini che hanno bisogno speciale.